State per vedere il mio otto e mezzo, magari mi piace molto, non è così, è un film su passaggio di età però, è un film a cui sono molto affezionato perché forse, anzi no, sicuramente è la prima volta che in un film che faccio parlo un po' di me, non è un film autobiografico ma ci sono molte pensieri, po' pure ansie, dubbi sul lavoro. Una delle domande era, è meglio la vita o meglio il cinema? Io credo, all'inizio pensavo come Inchco che diceva una volta, disse per voi è solo un film ma per me è la vita intera, la pensavo così, adesso penso che la vita sia più importante del cinema ma che il cinema la faccia diventare più bene e vivibile, come sono un film. Scegliere con molta cura i suoi tempi, i suoi attori, come è stata? Incredibile Basta così? Sì Poi andiamo allora a girare la domanda, posso dire incredibile anch'io? E cavarmela, e cavarmela così e guardiamo il film. E ma tu avevi anche l'esperienza di regista, la tua esperienza di regista, con quelli di attori, perché parliamo da, guardiamo. Non vi voglio parlare di Casanova, voglio vedere il film, insieme a voi. Abbiamo visto solamente alcune cose in un computer, quindi è molto diverso. Quindi c'è l'esperienza, quindi noi con un anno fa, quindi torni tu. Sì Lo dico, condividiamo l'emozione della platea stasera, perché anche noi vediamo per la prima volta il film sul grande schermo, quindi non vediamo l'ora di vederlo. Io sono venuto tante volte, ho recitato qui, Eduardo, De Filippo e altre piece qui al Pincini, mi sento veramente a casa a Bari, una città dove sono molto, molto professore. No, la raccomandazione che volevo fare, poi andiamo subito a vedere il film, è che se vi piace, parlatene. Perché la possibilità che le sale si riempiano è umana, non passa attraverso la pubblicità, gli spot, servono anche quelli, ma in bassa parola. Cioè dire che ne è valsa la pena uscire di casa, parcheggiare, pagare la visita, perché si sono passate due ore che rappresentano un unicum, no? In una settimana, in un mese. E quello che riempie le sale, quindi parlateli, ditelo, ditelo, perché questa è rimasta, il teatro vuoi per eccellenza, ma anche il cinema è rimasta una forma in cui ci si ritrova, no? C'è una forma di spettacolo dal vivo, no? Poi ci sono i divani, le televisioni, le guizze a casa, eccetera, eccetera. No, il cinema va visto insieme agli altri. La ragione per cui noi veniamo qui a testimoniarlo è perché si propaghi dalla bocca all'orecchio il fatto di dire sì, ne è valsa la pena. Ho visto un film che mi ha fatto pensare, ma mi ha fatto divertire, mi ha interessato. È un avamposto di umanità di cui abbiamo un'enorme, un'enorme necessità. Quindi, se vi è piaciuto, fatelo sapere. Ecco, vero. È un pubblico meraviglioso. Tommy ha ragione perché è fondamentale questa cosa. Una volta lo passato, però l'ha fatto la fortuna di tanti film, anche dei nostri. Ed è meraviglioso dedicare il due ore della nostra vita a non essere per una volta interattivi, senza telecomando. Entrate nel sogno di un'altra persona, nella visione di un'altra persona. L'interattività che mi si tiene è del cuore veramente. Grazie. Grazie. Buona visione. Buona visione.